Qua le fogne fanno fatica a tirare e non si riesce a smaltire l'acqua, quindi ogni volta vediamo il garage che si allarga. Adesso teniamo la roba un po' più alta nei scaffali e cerchiamo di guardare. Abbiamo fatto la paratia apposta per non far entrare l'acqua nella scivola dei garage e basta.